Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento del ciclo Non fermiamo la cultura, promosso dal Collegio Ghislieri. Io sono Chiara Figazzolo e sono attualmente una first year PhD student alla Situ Pasteur di Parigi, dove sto lavorando allo sviluppo di potenziali farmaci a base di DNA. Sono stata allunna del Collegio Ghislieri dal 2015 al 2018, anni in cui ho studiato chimica, e poi successivamente nel 2019 mi sono spostata alla University of Cambridge in UK, dove ho lavorato per un master di ricerca allo sviluppo di potenziali farmaci a base di anticorpi contro le malattie neurodegenerative, in particolare contro l'Alzheimer. Quindi ancora benvenuti qui con noi oggi e vi vorrei introdurre alla nostra special guest Elisa. Ciao a tutti, io sono Elisa Figazzolo, studentessa di medicina e chirurgia presso l'Università di Pavia. Attualmente sono iscritta al sesto anno di corso. Io e Chiara, oltre ad essere accomunate da un legame di sangue, siamo infatti cugine, in questi anni abbiamo sviluppato una passione comune che è collaterale al nostro campo di formazione, quindi appunto il background scientifico. Questa passione è proprio la passione per il campo economico. Tali interesse si è trasformato poi in realtà lavorativa da circa un mese a questa parte, quando entrambe siamo divenute membri del team Isabella, di cui proprio oggi vogliamo parlarvi. Però aspetta Elisa, raccontiamo la storia dall'inizio. Allora, come credo tutti voi, negli scorsi tre mesi siamo state bloccate a casa, quindi bloccate dalle nostre realtà lavorative a causa della pandemia di Covid. Ad esempio io lavoro in laboratorio tutto il giorno, però il mio laboratorio non era attivo nella ricerca contro la pandemia, perché noi non siamo nell'ambito della virologia. E per questo motivo mi sentivo piuttosto inutile, perché pur avendo un background scientifico, quindi delle basi effettive per fare ricerca, non potevo fare nulla perché appunto non stavo lavorando nello stesso ambito di interesse per appunto il combattimento della pandemia. Quindi mi sentivo un po' inutile. Esatto, mi sono ritrovata praticamente nella stessa identica situazione. In quanto studente a storia di medicina ho soltanto potuto acquisire in modo passivo, da giornali che dei giornali, le informazioni relative a tutto ciò che stava accadendo in prima linea nei pronti soccorsi degli ospedali di tutta Italia e purtroppo in particolare anche in quello pavese, che è stato al centro dell'attenzione mediatica fin dall'esplosione dell'emergenza. È stato infatti molto frustrante comunque vedere l'operato di medici e al tempo stesso i miei professori che mi hanno fatto da mentori in questi sei anni, senza poi poter dare un reale contributo in prima persona. Ed è a questo punto che siamo entrate in contatto con il mondo degli hackathon. Ora, non so se abbiate mai sentito questa parola, però un hackathon nasce dall'unione di hacking e di marathon. Ora, hacking vi ricorderà il concetto di hacker, quindi del programmatore esperto di computer, che dalla sua camera riesce a risolvere i più complessi problemi informatici. Mentre la parola marathon significa semplicemente maratona. Pertanto gli hackathon sono nati come delle maratone di circa 48 ore che permettono di risolvere complessi problemi informatici, usando quindi tutti i mezzi che i computer possono dare. Negli ultimi anni però la parola hackathon ha assunto un'altra definizione, ovvero è diventato un modo per fare hacking, quindi risoluzione di qualsiasi tipo di problema, quindi non solo problemi informatici. Ed è per questo motivo che nel corso degli ultimi specialmente due mesi sono stati organizzati diversi hackathon della durata di 48 ore, proprio per combattere non solo il Covid, ma anche tutte le sue conseguenze e per far ripartire il mondo dopo l'avvento della pandemia. Esatto, nel nostro caso in particolare abbiamo partecipato all'hackathon organizzato dall'MIT di Boston, che si è svolto virtualmente dal 3 al 5 di aprile. Diciamo che il nostro background prettamente scientifico renderebbe impensabile anche solo l'idea di poter sviluppare progetti nell'ambito tech, quali per esempio applicazioni piuttosto che siti web. Ma il bello di tali eventi è proprio questa possibilità di poter interagire con professionisti e studenti che provengono da percorsi formativi anche molto distanti, che quindi consentono di andare a formare team multidisciplinari in grado di sviluppare idee innovative. E proprio nelle prime ore di questo hackathon, che sono le ore più adrenaliniche in assoluto, quindi di formazione del team, in cui è avvenuto questo scontro dei due mondi, quindi il mondo dell'informatica con il mondo della medicina, che ha consentito la generazione di quest'idea molto innovativa, che prevede infatti l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per poter ottimizzare l'uso degli spazi. L'idea era stata pensata per combattere con i migliori strumenti possibili il sovraffollamento di pronti soccorsi e terapie intensive durante la fase di picco dell'emergenza. Però aspettate che andiamo un po' più nel dettaglio. Allora, adesso condivido il mio schermo, così vi presentiamo Isabella, che è il nome che abbiamo dato alla nostra applicazione. Allora, lo slogan che utilizziamo per descrivere Isabella è Let AI Plan Your Space, ovvero lasciate che l'intelligenza artificiale pianifichi il vostro spazio. Infatti Isabella è un'applicazione che fa Space Planning o Space Management e che è basata sulla Machine Intelligence oppure sull'Artificial Intelligence, proprio per garantire un'ottimizzazione dell'utilizzo dello spazio. Il suo funzionamento è molto semplice. Allora, lo user deve semplicemente fare una foto della stanza a cui è interessato e uploadare, quindi caricare la foto sulla nostra applicazione, che è semplicemente scaricata sul cellulare. A questo punto lo user può selezionare gli oggetti che devono essere posti nella stanza e l'output di Isabella è la distribuzione ottimizzata di questi oggetti. Quali sono i benefit? Beh, innanzitutto Isabella è molto facile da utilizzare. Infatti basta unicamente la videocamera del proprio cellulare. Ora, con una foto oppure un video e opzionalmente con la piantina della stanza è possibile fare in modo che Isabella agisca. Questo in realtà è un grande vantaggio perché tutte le tecnologie di Space Optimization che ci sono adesso sul mercato hanno bisogno o della combinazione di una foto o di un video con la piantina, oppure di un sensore extra, un sensore solito laser, che permetta di stabilire esattamente quali sono le dimensioni della stanza e degli oggetti che sono coinvolti. Inoltre Isabella è anche facile da capire perché il tipo di output che viene fornito è molto semplice e molto intuitivo e quindi facilmente comprensibile. E infine Isabella tiene conto di tutte le richieste dell'utente. Per esempio, in tempo di social distancing, se l'utente fosse un ristoratore che vuole ottimizzare il numero di posti a sedere che sono presenti nel suo ristorante, può selezionare all'interno di Isabella che vuole mantenere i parametri della social distancing e Isabella darà un output che può riprodurre esattamente queste richieste. Dunque, adesso andiamo a vedere quelle che sono le applicazioni di Isabella. Abbiamo detto che Isabella nasce proprio per battere la pandemia, quando ancora lo stato di allerta negli ospedali era molto alto e infatti è stata concepita per poter facilitare la gestione dei flussi di pazienti che quindi stavano intasando gli ospedali di tutta Italia. Lo scopo era basicamente quindi massimizzare il numero di letti e ventilatori presenti nei pronti soccorsi e nelle terapie intensive. Chiaramente i tempi di sviluppo dell'applicazione stessa hanno purtroppo rallentato la sua uscita nel mercato, ma la sua flessibilità è tangibile. Infatti Isabella trova un ruolo concreto anche in fase di ripartenza, quindi in fase 2, quando il mantenimento delle social distancing assume proprio un ruolo fondamentale, garantendo quindi la corretta pianificazione di oggetti negli spazi pubblici nel rispetto delle rigide normative in vigore. Infatti quello che possiamo dire è che per esempio nel caso di ristoranti l'output di Isabella potrà essere una mappatura della stanza con la distribuzione ottimizzata dei tavoli. Quindi quello che attualmente fa l'utente, quindi il ristoratore, che si mette lì con metro e tanta pazienza, Isabella lo potrebbe fare in pochissimi secondi, con maggiore precisione e guadagnando il massimo di coperti possibili. L'applicazione poi ovviamente trova uso anche nell'organizzazione di altri spazi pubblici, come per esempio scuole ed uffici. Però il futuro di Isabella è persino più forte del presente. Infatti il servizio potrà proprio fornire supporto per esempio all'architettura o comunque all'ingegneria edile per la ristrutturazione e riorganizzazione di grandi spazi quali uffici di multinazionali, piuttosto che di edifici storici e ancora più importante degli stessi ospedali nel caso specifico dell'ingegneria clinica. Ora andiamo a vedere quella che è l'interfaccia di Isabella, che vediamo essere molto semplice e molto intuitiva. Infatti come è possibile vedere dagli screen chiave dell'applicazione nelle slide, lo user dopo aver caricato quindi la foto dello spazio che vorrà ottimizzare potrà inserire il numero di oggetti che vuole riorganizzare nello spazio fotografato, ne potrà customizzare le caratteristiche in termini di dimensioni e dopodiché il software farà tutto il resto. Quindi andiamo a vedere in particolare che cosa fa proprio Isabella nella pratica. L'output di Isabella consiste proprio quindi nella mappatura dello spazio fotografato e nella comunicazione all'utente della distribuzione ottimizzata degli oggetti nello spazio. Qui abbiamo un esempio immediato, vediamo che nel prima abbiamo solamente nove letti e nel dopo, quindi post ottimizzazione da parte appunto dell'applicazione, abbiamo bensì 15 letti. Quindi Isabella ha quasi duplicato la capacità dell'area fotografata. Adesso vi presentiamo il nostro team internazionale, infatti abbiamo membri che provengono da Canada, Australia, Arabia Saudita, Pakistan e in particolare ci siamo io, Chiara e Tresi nel team appunto business. Poi abbiamo il nostro engineer, Buran, l'app di velo per Selena e infine i due web di velo per Marcos e Saed, ultimo arrivato nel nostro team. E con questo siamo lieti di annunciarvi che appunto all'MIT Covid-19 Challenge siamo stati scelti tra i progetti più promettenti, quindi tra i vincitori. Vi ringraziamo per la vostra attenzione, speriamo che vi sia piaciuta la nostra idea, insomma la nostra applicazione. Siamo anche felici di dirvi che al momento stiamo per testare la demo sui primi uffici e le prime scuole e speriamo davvero di poter dare una mano almeno nella seconda fase della pandemia e poi successivamente e vi vogliamo anche invitare a partecipare a qualcuno di questi hackathon. Vi basta infatti avere un'idea oppure un briciolo d'idea e partecipando ad un hackathon potete trovare le persone giuste per realizzarla, quindi quelle persone che hanno le skills che magari a voi mancano. Pertanto davvero cercate di dare il vostro contributo, speriamo di avervi ispirato e con questo vi auguriamo un grandissimo in bocca al lupo sperando che non ci saranno emergenze come il Covid nel futuro prossimo. A presto! Grazie ancora per l'attenzione!